Allora, volevo affrontare con voi un altro tema che mi piace chiamare il tema dell'umiltà del ricercatore. Dove si deve fermare il ricercatore? È un tema che in archeologia sta vivendo tantissimo. Quanto devo scavare e dove mi fermo? Vi faccio solo una considerazione. Partiamo dall'Italia. Il nostro patrimonio statigrafico non è infinito e se noi continuiamo a scavare in maniera intensiva significa anche a che lo esauriamo e poi sottraiamo le generazioni future la possibilità di porre le domande a quel patrimonio culturale, della conoscenza del passato che noi adesso non siamo in grado di fare. L'umiltà del ricercatore significa anche quando noi facciamo la storia degli studi e non sapete quante volte noi egittologi diciamo ma come vorremmo che i geroglifici fossero stati interpretati adesso, come vorremmo che l'inizio degli scavi in Egitto venisse fatto adesso, che abbiamo lo scavo statigrafico, non che fosse stato fatto nel diciannovesimo secolo con la perdita enorme di dati. Adesso che riusciamo ad analizzare i pollini, che riusciamo a fare una serie di analisi che mi permettono quindi di capire quello che trovo nel terreno. Vi do un esempio, nello scavo che ho l'onore di dirigere adesso finalmente abbiamo lo scavo statigrafico e quindi finalmente noi scaviamo circa 50-60 centimetri in una stagione. Quando io ho iniziato vent'anni fa e si dice il peccato non il peccatore, mi fu detto ma bisogna in sei settimane raggiungere il livello della tomba del nuovo regno, quindi bisogna in sei settimane sterrare sei metri. Ecco vi lascio immaginare cosa significa, quanti dati si perdono, però non dobbiamo pensare oggi che noi siamo perfetti perché noi oggi abbiamo una serie di limiti e questo ci deve dire ma dove mi fermo, qual è il momento in cui devo dire fino a qui e non più in là e allora vi voglio far vedere un esempio pratico che stiamo facendo al museo egizio. Abbiamo il 15 febbraio del 1906 fu ritrovata una tomba intatta, la tomba di Ha Emerit, il responsabile delle opere del faraone della moglie Emerit. Fra le varie cose che si sono trovate in quella tomba si è trovato anche un cofanetto che contieneva all'interno sette vasetti di alabastro che all'interno contengono i sette oli sacri. I sette oli sacri venivano usati durante la mummificazione, venivano usati nel cosiddetto rituale dell'apertura della bocca, venivano usati in vari rituali nei templi e non sappiamo di cosa siano composti. Se io aprissi questi contenitori, prendessi un campione, ne facessi l'analisi molecolare, domani esco su Nature perché non sappiamo quali siano i sette oli sacri dell'antico-egitusia, ma ancora il termine antico-egiziano e qui abbiamo la possibilità di mettere in relazione il docket in ieratico con quanto vi è all'interno. Ma che diritto io ho di aprire un contenitore che molto spesso è coperto da un tessuto con il sigillo del faraone a Menofis II, che ha un jar stopper fatto di argilla, che sopra a un pezzo di metallo ed è coperto da un coperchio di alabastro? Beh, nessuno. E allora ho deciso di fare delle indagini non invasive, quindi delle indagini che abbiamo fatto nell'Oxfordshire, in questo centro di ricerca che si chiama ISIS, con l'attivazione elettronica, che ci ha permesso di vedere all'interno che questi vasetti contengono il residuo di oli. Guardate quanto olio vi è ancora all'interno, ovviamente solidificato, ovviamente trasformato, ma studiando gli atomi di carbonio ci permetterebbe di capire cosa vi è all'interno. Ebbene, questo è il momento in cui però mi devo fermare, il momento in cui devo dire, noi arriviamo fino a qui e poi fra dieci, venti, magari cinquanta, magari cento anni, ci sarà una modalità di indagia non invasiva che mi permetterà di capire quello che vi è all'interno. E non legherò io il mio nome a questa scoperta, molto probabilmente, ma sarà qualcun altro. Ma è il momento in cui però io non posso andare a rovinare un contesto che si è conservato per così tanto. Pensate che a Xi'an, dove sappiamo che vi sono le tombe imperiali, alcune delle quali intatte, gli scavi archeologici sono fermati perché nel scavare queste camere ipogee, dove probabilmente c'è ancora una situazione di anossia, si vuole preservare l'atmosfera antica e dire scaveremo quando saremo in grado di farlo. E per farvi vedere un esempio di ciò che chi mi ha preceduto ha fatto, vi faccio vedere prima, questo è un'analisi che abbiamo fatto con l'MIT di Boston, ristudiando il blu egiziano e il professor Admir Masic dell'MIT di Boston, pensate all'MIT, Massachusetts Institute of Technology, ha preso un posto su struttura delle materie dei materiali antichi, sapete che l'MIT è la prima università al mondo nel ranking internazionale, con l'archeologia al centro e chiamano noi al Museo Egizio a fare lezione all'MIT di Boston parlando della struttura del blu egizio, che è il primo pigmento artificiale, come sapete, probabilmente di cui ci parla anche Vitruvio, in cui Vitruvio dice mischiando la sabbia alla malachite e con un doppio processo di ossidazione si otteneva questo prodotto, Vitruvio dice che gli egiziani lo chiamavano Irit Gesebech, fatto come di lapislazzuli perché non era un'azzurrite ma era un blu davvero intenso. Bene, l'MIT adesso stanno studiando il nostro blu egiziano e hanno scoperto che ha delle caratteristiche incredibili, che sarebbe molto più efficace per esempio nel costruire protesi osteologiche perché è assolutamente inerte, ha una grandissima resistenza, che potrebbe essere utilizzato addirittura nella costruzione di pannelli solari perché ha una capacità assorbente molto maggiore di quanto non abbia i materiali che finora usiamo. Volevo tornare però al punto in cui dove dobbiamo fermarci e ho visto che ho perso una slide che però devo ritrovare da qualche parte, vediamo dove ce l'avevo perché vi volevo far vedere una cosa, vediamo se è questa, sì, siamo il 15 febbraio del 1906, gli operai di Schiapparelli trovano un pertugio, questo portugio è profondo 8 metri e 30, alla fine di questo ci sono delle scale, c'è un primo corridoio bloccato da pietre, vengono tolte un secondo corridoio anch'esso con pietre e Schiapparelli si trova di fronte a questa porta, queste sono le foto originali prese nel 1906, i nostri ingegneri li hanno resi immersive e noi adesso possiamo rientrare all'interno della camera sepolcrale e vivere quel momento in cui lui entrò e trovò all'interno 460 reperti, l'unica tomba intatta del nuovo regno che sia preservata fuori dall'Egitto e trovò i sarcofagi di CAE, di Merit, ancora ricoperto di teli, trovò i resti della cultura materiale, i prodotti alimentari, i pani, la frutta, i datteri, la carne essiccata, il pesce essiccato, l'olio, la birra e tutti questi 467 oggetti sono stati riportati a Torino, questo è un'animazione del disegno fatto da Schiapparelli nella sua pubblicazione del 1927 presentato a sua maestra e re Vittorio Emanuele III per dire che l'Italia, unico paese al mondo, aveva finalmente una tomba intatta ed ecco qui gli operai nel momento in cui escono con tutti gli oggetti in mano. Schiapparelli fu geniale perché riuscire a portare qui quella tomba non era semplice, fra l'altro è una cosa molto complessa tutt'oggi che io devo gestire in maniera delicata con le autorità egiziane perché sono stati portati 467 reperti nel 1906 ma dal 1902 esisteva la legge del cosetto Partage, gli oggetti più importanti dovevano rimanere in Egitto, gli altri potevano uscire. E allora Schiapparelli li convince, dice che ci sono che era un contesto archeologico unitario che doveva rimanere unito e gli egiziani gli potevano dire hai perfettamente ragione, deve tutto rimanere qui in Egitto e lui disse no ma voi avete già ritrovato nel 1903 la tomba di Yuya e Tuya quindi datelo a noi che non abbiamo questi reperti e riesce a portarlo. Lo porta in Italia, lo espone, lo studia come vi ho detto, arriva alla pubblicazione nel 1927 e però non fa mai una cosa, ovvero non sbenda mai le mummie e scrive in una lettera che verrà un momento in cui noi potremo guardare all'interno delle mummie senza sbendarle ma non le vuole sbendare per non danneggiarle quindi quello che state per vedere voi oggi lui non l'ha mai visto e adesso fra un po' lo vedremo. Questa è la sala in cui le abbiamo esposte, queste sono alcune foto e adesso vi faccio vedere il video dello sbendamento della tomba e della mummia di Ka e poi ho anche lo sbendamento della mummia di Merit. Su questo ci abbiamo lavorato per tre anni assieme al British Museum assieme degli anatomi patologi, assieme all'Eurac per cercare di capire, scusate però ho preso quella di Merit, voglio prima farvi vedere Ka, evidentemente, scusate un attimo, vediamo se è questa, questa è la mummia di Ka. Allora facendo questi studi con il British Museum abbiamo cercato assieme di sviluppare un algoritmo che ci permettesse di sbendare le mummie, loro a questo hanno dedicato una mostra che si chiama Ancient Lives, noi abbiamo la mostra adesso e l'anno prossimo a maggio apriremo una nuova sala al Museo Egizio che si chiamerà Sala della Vita. Studiando i tessuti innanzitutto e studiandone tutta la struttura abbiamo visto che ci sono più di 11 metri di tessuto che avvolgono i resti, purtroppo ormai solo resti osteologici di Ka e abbiamo voluto studiare un metodo che ci permetta di dare davvero la sensazione che le bende vengono tolte e ci permetta di vedere cosa vi è all'interno ed ecco quello che state vedendo voi adesso Schiapparelli non l'ha mai visto e ci tornerò dopo in dettaglio ma Schiapparelli in un museo ricchissimo di moltissime cose ma poverissimo di gioielli non ha mai visto che Ka aveva questi gioielli e fra un po' vi dirò anche l'unicità dei gioielli che lui ha. Quando guardiamo la disposizione innanzitutto degli amuleti e dei gioielli corrisponde in toto a quanto ci dice il capitolo 156 del libro dei morti e quindi possiamo anche dire che è stato sepolto seguendo assolutamente la ritualità del caso. Possiamo vedere peraltro come vedete che solo parte dell'epidermide nelle parti dell'eterga e della schiena è stato conservato mentre la maggior parte non è conservata e su questo faremo delle considerazioni anche poi in futuro. Aveva un'altezza che variava fra i 168 e i 174 centimetri quindi un'altezza di tutto rispetto per una persona dell'epoca e guardando le calcificazioni delle ossa craniche possiamo dire che morì probabilmente attorno ai 60 anni altro elemento importante perché è un'età di nuovo di tutto rispetto per l'epoca lo vediamo anche dalla dentatura dalla mancanza dei molari. Altre cose che emergono dallo scheletro sono sia la presenza di artrosi presenza di artrosi sia sulla colonna vertebrale sia sui gomiti. Soffriva della cosiddetta sindrome del tennista perché il suo lavoro era Imi Erkautnesut responsabile delle opere del faraone che significa capomastro e quindi doveva condurre i suoi lavoratori e lavorare lui stesso in prima persona. Ma la cosa che ci colpisce è anche il tipo di mummificazione che lui ha subito perché vedete che il cervello, i polmoni e gli organi sono ancora presenti e questo innanzitutto risponde ad una domanda che ci eravamo sempre posti. Ma dove sono i vasi canopi? Sapete che il processo di mummificazione richiedeva l'excerebrazione e l'eviscerazione ma non ci sono vasi canopi né di Kha né di Merit. Se leggete il libro secondo delle storie di Erodoto, Erodoto parla di vari livelli di mummificazione dice che le mummie che appartenevano ad un censo più basso non provvedevano all'eviscerazione e excerebrazione ma lasciavano gli organi interni e avevano un processo di mummificazione molto più semplice. Ma guardate i gioielli che ha. Non possiamo certo parlare di un livello di mummificazione di categorie basse della società. Quindi dobbiamo dire che evidentemente c'era anche un altro tipo di mummificazione che sono state poste alcune ipotesi, fra poco vi dirò. I gioielli. I gioielli sono incredibili. A partire da questo collare che lui ha attorno al collo si chiama collare dello scebiu o oro dell'onore. È un collare fatto di dischetti d'oro che era il collare che il faraone dava ai suoi massimi funzionari per ricompensarli dei grandi servigi che avevano compiuto nei confronti dello Stato. È incredibile perché non abbiamo attestazioni in gioielli, ne abbiamo attestazioni archeologiche cioè lo vediamo rappresentato nei rilievi ma qui ce l'abbiamo qui all'interno. Pensate Schiapparelli, lo ripeto, non l'ha mai saputo. e noi, lo sappiamo adesso, ovviamente lungi da me, prevengo qualsiasi domanda mi vogliate fare in proposito, sbendare la mummia per tirare fuori i gioielli. Questo non avverrà mai. Peraltro, vedete questo scarabeo che ha sul petto, è il cosiddetto scarabeo del cuore, è fatto in pietra preziosa, circondata da una cornice d'oro, pende da una collana d'oro ed è probabilmente iscritto con il capitolo 30A o 30B del Libro dei Morti in cui ci sono i titoli e il nome del defunto. Non riusciamo ancora a leggerlo ma con il Politecnico di Torino stiamo studiando una metodologia per riuscire ad avere una micro-tac di alta precisione che ci permetta di leggere le pietre dure, di riuscire sul parte che è nel petto a leggere i geroglifici. Adesso riusciamo ad identificare solo qualche linea ma non siamo ancora in grado di leggere perfettamente quello che vi è. Quindi queste analisi ci hanno permesso di capire il tipo di gioielli che ha, che ripeto sono unici, di capire come sono stati disposti seguendo il capitolo 156 del Libro dei Morti. Ci pongono delle domande ulteriori perché io voglio essere in grado di leggere lo scarabeo del cuore ma ci pongono anche delle domande circa il processo di mummificazione e come Maika non è stato escerebrato. Andiamo a vedere la moglie che invece ha delle dimensioni molto più piccole che non è di nuovo, eccola qui sì, è circa un metro e cinquanta e è morta probabilmente molto prima, probabilmente è morta improvvisamente, non sappiamo quali siano le cause della morte ma già le osservazioni, prima di fare l'attacco, le osservazioni del fatto che lei abbia un sarcofago di due tipologie diverse in cui alveo e coperchio non sono pertinenti, il fatto che il sarcofago sia troppo grande per ospitare la sua mummia, il fatto che nel sarcofago ci sia una serie di tessuto che deve bloccare la mummia che altrimenti si potrebbe muovere in un sarcofago che è troppo grande per lei, ci avevano fatto fare delle considerazioni sul fatto che sia probabilmente morta improvvisamente, che quel sarcofago era destinato al marito che poi fu utilizzato da lei a causa della morte improvvisa. Lo studio e lo sbendamento virtuale della sua mummia ci hanno fatto vedere una serie di cose inaspettate. Innanzitutto non fatevi ingannare dal fatto che l'immagine che avete vi mostra un'interruzione da qui a qui perché in realtà quello che abbiamo scoperto, l'abbiamo scoperto semplicemente tre settimane prima di aprire la mostra, è che lei aveva una parrucca, una parrucca in capelli veri ed è la sua seconda parrucca perché in esposizione al Museo Egizio abbiamo la parrucca di Merit e la sua mummia ne indossa una seconda. Poi ha questo magnifico collare, collana, si chiama collare Wasek, un collare a giorno in oro, è lo stesso che vediamo decorati nei sarcofagi e che le circonda il petto. Anche lei ha degli orecchini molto pesanti come il marito e anche lei ha sia dei bracciali sulle braccia sia una cintura all'altezza della vita che è invece fatta in perline e conchiglie che provengono dal Mar Rosso. Guardate la situazione disastrosa della colonna vertebrale e della gabbia toracica. La colonna vertebrale è completamente disassata, le vertebre disarticolate. Questo probabilmente è venuto per un trauma post-mortem. Il processo della mummificazione è estremamente complesso e violento e ci possono avere delle cadute che danneggiano il corpo. Pensate che bene il 70% delle nostre mummie presenta dei fenomeni di restauro post-mortem per rendere di nuovo il corpo intatto. Anche lei ha di nuovo la presenza cerebrale. Non vi dico, i nostri colleghi medici, di fronte a questo, le richieste che adesso mi stanno facendo per analisi del cervello, analisi degli organi, da cui potrebbero emergere ovviamente tutta una serie di dati, ma è di nuovo il momento in cui io dico no. Non posso permettere che vengano fatte delle analisi invasive che sarebbero davvero molto invasive perché dovrei sottrarre parte del tessuto per riuscire ad aprire un pertugio per andare all'interno. Anche qui ci auguriamo che in un prossimo futuro ci possono essere delle modalità di analisi non invasive per capire tutto ciò che vi è all'interno. L'interesse poi è duplice perché è anche quello degli egittologi. Gli egittologi vorrebbero adesso sapere se nei polmoni e nei tessuti che vi sono all'interno ci siano tracce per esempio di natron, perché una delle ipotesi che è stata portata avanti, ma è tutta da dimostrare, è solo un'ipotesi, che potesse esistere un sistema di mummificazione che funzionava esattamente al contrario rispetto alla disidratazione. Sapete che in genere la mummia veniva disidratata per 70 giorni, c'è chi si chiede se in questo caso, e ci dovrebbero essere forse anche degli esempi in ventunesima dinastia, se le mummie non fossero immerse in una soluzione che contieneva natron, a quel punto sarebbe ovviamente interessante riuscire ad allenizzare i tessuti interni per vedere se c'è stata una penetrazione di natron. Tutto questo non avverrà perché analisi invasive, soprattutto su resti organici, sono ancora più importanti e pongono ancora, ovviamente, le domande etiche ancora più importanti. Pensate che noi il 30 settembre e il 1 ottobre dedicheremo due giorni di studio sull'etica dell'esposizione dei resti antropici. C'è una discussione enorme che è partita dagli Stati Uniti che prima coinvolgeva i Native Americans, poi è partita dai musei etnografici e adesso sta arrivando ai musei egizi sia etico o meno esporre i resti umani. Questo quindi è la modellazione poi che viene fatta dei resti osteologici con i gioielli che abbiamo visto e da questo si può cominciare a fare una modellazione 3D dei gioielli e cercare poi di renderli visibili e quindi di arrivare ad una stampa dei gioielli stessi. Cosa che noi abbiamo fatto e che fra un po' vi farò vedere e cosa sul quale voi probabilmente, spero non moltissimo, voi nuove generazioni potrete avere una soluzione. Perché il modello 3D che noi riusciamo ad avere oggi e la stampa che in questo momento abbiamo fatto in resina dimostra ancora tutte le scarpe da neonato perché mostra ancora tutte le potenzialità in nuce ma le possibilità non tuttora soddisfacenti che questa metodologia ha. Perché la stampa che ci dà un'idea di quanto possiamo vedere in realtà però ci fa vedere dei modelli, questo è il modello dal cui siamo partiti, che poi una volta stampati non mostra il dettaglio di definizione del gioiello stesso. Infatti noi abbiamo messo questi oggetti, eccolo qui, assieme a degli oggetti che abbiamo antico-egiziani e ne fa vedere come il dettaglio. Per esempio questo anello, questo è un anello vero di Merit perché Merit ha una maschera funeraria che ne copriva la parte superiore della mummia. Sul retro della maschera funeraria vi erano tre anellini. Durante il lavoro di restauro un anellino è caduto e quindi l'abbiamo recuperato ed eccolo qui. Questo è un anello stampato in resina in cui per ora, fra esempio, non sappiamo ancora di che tipo, se ci sia un castone in pietra preziosa o se ci sia un castone in altro materiale e vedete la definizione di dettaglio è completamente diversa. Quindi è vero che questa stampa per ora dà un'idea di come devono essere i gioielli ma non hanno ancora quella definizione che noi egittologi vorremmo avere. Non solo mummie umane ma abbiamo anche mummie animali. E qui è il momento in cui un po' casca l'asino perché, sapete, mummie animali ne sono state trovate tantissime più di tre milioni. Era ex voto che venivano portati ai templi dove vi erano la manifestazione del Dio in quella determinata forma animale. Ovviamente quando si porta un ex voto è importante il gesto di pietas nei confronti degli dèi ma è anche importante il fatto che la società ci riconosca come una persona che compie quel gesto di pietas e che il nostro ruolo nella società possa salire. Allora le analisi che noi abbiamo cominciato a fare su tutte le nostre mummie umane ci portano dei dati interessanti come questo ad esempio vedete questo coccodrillo che è completamente bendato è un metro e novanta qui prima del restauro adesso con la coda diciamo che è stata completamente stesa infatti uno dei motivi per cui era stato fare l'attacca era anche vedere come era messa la coda per poi vedere se riuscivamo a stenderla e poi invece abbiamo visto che non vi era coda perché sebbene questa sia una mummia abbia l'apparenza di un coccodrillo adulto in realtà la mummia contiene una piccola mummia di coccodrillino sul davanti come tantissime delle nostre mummie di falco non contengono all'interno un falco ma solo una piuma di falco come le nostre due mummiette di toro api non contengono all'interno un piccolo torello ma contengono semplicemente qualche vertebra e qualche costola perché? beh semplicemente per una ragione pragmatica minimo sforzo massimo risultato costava molto meno avere una mummia che all'interno non avesse i resti di un animale adulto si poteva comunque fare una serie di bendaggi esterni che davano l'idea che fosse la mummia di un adulto si spendeva meno si spera che il dio fosse comunque contento sicuramente la società avrebbe pensato che si fosse una persona pia abbiamo fatto anche lo sbendaggio delle nostre mummie animali e vi faccio vedere come esempio solo la mummia di un gatto che abbiamo sbendato la cosa interessante è anche qui come i dati che emergono siano soddisfacenti da una parte ma poi in realtà ci impongano nuove domande alle quali dovremmo cercare di trovare una risposta e sappiamo già che alcune risposte in questo momento sono difficili e quindi questo amplia tutta la possibilità di ricerca che si avrà in futuro vedete questa mummia di gatto fra l'altro ne abbiamo studiato gli intrecci stiamo studiando il colore abbiamo visto che probabilmente la parte della faccia del muso era rosa vedete peraltro come l'apparato epidermico si è relativamente ben conservato è un gatto di due anni nella forma cosiddetta birillo e poi vedete che ha due elementi blu nelle cavità oculari e qui il nostro radiologo e il nostro veterinario stanno litigando fra di loro e non sono d'accordo perché il veterinario ovviamente dice si tatta di pietre dure che sono state messe al posto degli occhi nelle cavità oculari il radiologo dice no studiando le emissioni non sono pietre è materiale organico fa un po' impressione quindi dovrebbero essere gli occhi iniettati con qualcosa ovviamente per ora non riusciamo a trovare non sappiamo quali sia una soluzione presentiamo peraltro entrambe le ipotesi altra cosa che non ho detto all'inizio che però è fondamentale i musei non devono più avere paura di dire non so o di dire che su determinati argomenti ci siano interpretazioni diverse perché è parte della ricerca è parte del fatto del nostro fenomeno della ricerca per cui siamo arrivati ad un certo punto tante cose dobbiamo dire non le so e ve lo farò vedere fra un po' e su altre cose possiamo forse mettere per ora un punto fermo che però potrà essere messo in discussione io mi chiedo sempre perché sebbene nel dialogo scientifico tutto questo sia ammesso per il pubblico si scelga sempre un livello di ipersemplificazione e si voglia far vedere invece una determinata civiltà come se noi conoscessimo tutto dalla Z perché facciamo questo perché invece non abbiamo il coraggio di dire che per esempio sull'antico egizia sappiamo pochissimo che quello che emerge dai testi e quello che emerge dalla cultura materiale ci porta a poter dire forse con determinata certezza certe cose ma di tante altre non abbiamo risposta se riuscissimo invece a dare questo messaggio forse creeremo ancora di più la curiosità del pubblico e faremo capire intanto lo metteremo parte di dov'è il processo scientifico e faremo anche capire quindi che tornare tornare a fare una visita comprare un libro leggere un articolo ci permette forse ogni volta di andare un po' più avanti in quel processo di conoscenza che è tipico della nostra disciplina allora vi voglio far vedere qualcosa di cui non sono assolutamente fiero di cui il nostro museo per ora è l'unico esempio al mondo ma non è un esempio positivo ma un museo non deve avere paura di mostrare esempi anche che non sono positivi ed è questo osservando questo papiro voi vedete che ci sono delle parti che presentano delle colorazioni diverse le parti che presentano colorazioni diverse noi pensavamo che avessero subito decolorazioni o d'oscuramenti dovute al fatto al materiale che vi era stato applicato molto spesso vernici e cera applicate nel secolo scorso per motivi conservativi non potevamo mai comprovare questa tesi soprattutto i nostri papiri hanno un problema i nostri papiri sono stati incollati su una garza già nel ventesimo secolo questa garza è stata incollata poi ad un cartone questo ne sta inficiando la conservazione si creano tutte queste pieghe all'interno del papiro perché il papiro si muove è ingabbiato nel tessuto di sostegno che lo tiene e quindi noi dobbiamo cercare di staccarlo ma se riusciamo relativamente bene a staccare il cartone molto più problematico invece è staccare la garza perché non possiamo usare solventi perché se no questo compremetterebbe la conservazione del tessuto quindi dobbiamo cercare di rivolgerci alle nanotecnologie e vedere quello che stiamo facendo in questo caso ci siamo riusciti siamo riusciti a staccare la garza e una volta che abbiamo staccato la garza e abbiamo girato il papiro abbiamo scoperto una cosa che non mi aspettavo mai e che certo non è bella ovvero che questi colori diversi sono dovuti al fatto che nel ventesimo secolo quando hanno visto che questo papiro questo e molti altri nostri papiri avevano delle lacune hanno pensato di riparare le lacune usando frammenti di papiro che erano in collezione quindi questo papiro che è dell'ottavo secolo avanti Cristo è stato riparato usando dei frammenti di lettere ramessidi che sono di sette secoli prima per colmare le lacune ed è una cosa pazzesca fra l'altro è un papiro funerario di non grandissimo valore ma questi frammenti invece sono importantissimi perché questi sono frammenti del cosiddetto libro giornale della necropoli che mi documenta come funzionava il villaggio degli artisti del faraone è una cosa che noi oggi nemmeno potremmo immaginare pensate se per riparare un libro dell'ottocento usassimo dei frammenti di un manoscritto di Leonardo ecco per darvi il paragone le usassimo semplicemente per riempire i buchi che vi sono cosa dobbiamo fare oggi semplicemente documentare ovviamente non possiamo andare a staccare questo non interveniamo più su questo ne facciamo la digitalizzazione di ogni frammento e stiamo facendo la ricostruzione virtuale dei nostri papiri la cosa non bella perché uno scopre questo è parte della biografia dell'oggetto e uno dice beh è un fenomeno che si aveva nel ventesimo secolo siamo l'unico museo non è avvenuto al Cairo non è avvenuto al British Museum non è avvenuto al British Museum di Berlino non è avvenuto a Parigi quindi questo è un qualcosa che è stato pensato a Torino probabilmente perché a Torino noi abbiamo 26.000 frammenti inediti di papiro quindi si pensava di avere tanti di questi frammenti che potevano così essere usati ad libitum e anche questo è parte della storia del papiro fra l'altro adesso abbiamo fatto una stampa in metallo 3D inserendo appunto tutti i frammenti di papiro che sono stati riutilizzati al museo egizio abbiamo anche una collezione enorme purtroppo finora non adeguatamente studiata e non adeguatamente esposta di manoscritti copti ovvero della fase cristiana l'ultima fase prima della conquista araba dell'Egitto del VII secolo a.C. in cui l'Egitto viene cristianizzato si parla una lingua che è il copto che utilizza l'alfabeto greco con l'aggiunta di alcune lettere che permettano di esprimere quei suoni che non esistevano in lingua greca ha per il 60% un vocabolario greco ma riutilizza forme grammaticali egiziane ed è una parte fase linguistica importantissima per noi per ricostruire la lingua antica ma il museo egizio ha dei documenti importantissimi noi conteniamo ad esempio il resoconto del concilio di Nicea che è il concilio in cui la chiesa d'Oriente venne separata dalla chiesa d'Occidente stiamo studiando adesso in un progetto internazionale con l'università di Roma la sapienza l'università di Oslo l'università di Bergen alcuni dei nostri manoscritti e soprattutto lo studio degli inchiosti e anche di questi abbiamo parlato allora vorrei giungere avviandomi a concludere perché vorrei avere un po' un dialogo con voi dopo la mia presentazione vi voglio far vedere però il risultato della ricerca di un oggetto molto importante di un sarcofago che si trova al museo egizio e sul quale lavoro da dieci anni nel 2009 si forma un gruppo di lavoro che va sotto il nome di Vatican Coffin Project condotto dai musei vaticani in cui ci siamo interrogati sullo studio dei sarcofagi cosiddetti gialli i sarcofagi del terzo periodo intermedio e partivano anche da una considerazione perché nei nostri musei abbiamo pochissimi sarcofagi dell'età del nuovo regno dal 1550 al 1070 avanti Cristo potremmo dire se mi permettete una semplificazione dell'età dell'oro dell'antico Egitto se voi andate in Egitto e andate a Lux troverete tantissime tombe del nuovo regno ma dove sono rimasti quei sarcofagi e partendo da lì abbiamo cominciato perché poi invece la cosa strana è che nei nostri musei abbiamo tantissimi sarcofagi precedenti sarcofagi a cassa ad esempio del Medio Regno e tantissimi sarcofagi posteriori ma abbiamo molto spesso un gap dove sono rimasti quei sarcofagi beh quei sarcofagi sono rimasti all'interno di sarcofagi precedenti sono stati e adesso vi farò vedere questo vi farò vedere come i sarcofagi possono essere riutilizzati a Torino abbiamo la fortuna di avere un sarcofago importante che è il sarcofago di Buteamo ultimo scriba della necropoli e dopo anni di studio abbiamo assieme al Politecnico di Milano assieme ai Musei Vaticani affrontato lo studio completo di questo sarcofago dove secondo me facciamo davvero vedere come la nuova tecnologia debba lavorare assieme alla cultura materiale sono venuti i tecnici del Politecnico di Milano e hanno fatto la scansione completa del sarcofago con precisione submillimetrica di modo che tutti i livelli del sarcofago potessero essere documentati ma io non volevo solo che fosse documentato il sarcofago volevo che fosse documentato anche tutta la fase di studio quindi ecco il sarcofago la sua stampa 3D che adesso abbiamo in museo con il micromapping ma mi interessava anche quello che c'era lo studio che abbiamo fatto ecco quindi che in questo modello abbiamo poi voluto agganciare tutte le fasi di studio diverse a partire dalle radiografie e dall'attack che ci fanno vedere che il sarcofago è composto da 30 pezzi di sarcofago diverso che quindi il sarcofago è stato riutilizzato che quindi il suo proprietario è andato nella necropoli è penetrato nelle camere sepolcrali ha fatto letteralmente a pezzi dei sarcofagi li ha riutilizzati la parte di radiopacità più intensa ci fa vedere infatti un estensivo uso di argilla perché i vari pezzi di legno poi dovevano essere tenuti assieme dall'argilla e poi allora andando a osservare da vicino il sarcofago ci siamo accorti che aveva una barba che non ha più e che la cavità sotto il mento è stata poi colmata abbiamo visto che le mani sono state segate che inizialmente aveva due mani stese sono diventati due pugni anche importante perché una distinzione di genere le mani stese sono tipiche di una donna i due pugni sono tipichi di un uomo quindi un sarcofago che era stato riutilizzato abbiamo visto in parte del sarcofago che ci sono parti nero scuro in bitume che appartengono probabilmente a un sarcofago dell'inizio della diciottesima dinastia qui invece siamo alla fine della ventesima e questo l'abbiamo visto sul lato l'abbiamo visto sul retro abbiamo visto che ci sono anche elementi di congiunzione che permettono di tenere assieme i vari pezzi di legno abbiamo scoperto che la base era troppo piccola per essere base di questo sarcofago e che quindi tutti attorno sono stati pezzi dei pezzi di legno che gli permettessero di fungere da base da un sarcofago più importante e quindi scavando abbiamo capito che il sarcofago era legno sul quale era sovraimposta argilla che l'argilla era tenuta insieme dall'incomotatura che tessuto che sopra il tessuto c'era messa calcite e untite dove poi l'artista aveva fatto la sinopia in rosso e poi aveva cominciato a decorare con l'ocra e sull'ocra aveva messo il nero e dopo il nero il verde e il blu e alla fine l'orpimento dando questo colore dorato il sarcofago quindi diventa una specie di enciclopedia sul quale si può scavare sul quale una serie di informazioni poi ci possono dare i dati ma allora siamo arrivati alla fine no in realtà siamo all'inizio di un nuovo processo perché questo che abbiamo scoperto ci pone di fronte a una serie di domande perché il sarcofago veniva riutilizzato perché Buteamon che aveva avuto dal grande sacerdote di Amon il compito di andare nella necropoli di mettere in sicurezza i sarcofagi di risepellirli poteva riutilizzarli ma il sarcofago allora non era più la casa per l'eternità non era più la perra in jet poteva essere invece riutilizzato forse il sarcofago serviva solo nel momento del rituale dell'apertura della bocca che tipo di botteghe c'erano come funzionavano bene queste sono tutte domande a cui non abbiamo una risposta a cui dobbiamo indirizzare la ricerca del futuro ecco quindi che la capacità diagnostica e le nuove indagini digitali ci permettono di scoprire livelli della materialità che non conoscevamo che sarebbero invisibili ad occhio nudo e questo ci può far capire ritornando ai testi di come dobbiamo rienterpretare e ristudiare una fase importante della storia dell'antico Egitto ecco quando oggetti reali e oggetti digitali collaborano assieme per darci una comprensione maggiore dell'oggetto e vi voglio leggere questo testo o nobile sarcofago della cantante di Amonictai che riposa in te ascoltami così che tu possa trasmettere il mio messaggio perché le sei vicino dille come stai come vanno le cose e questo testo mi mette ancora più in crisi perché questo testo è un testo di un ostracon che è conservato all'ouvre è un testo scritto da Buteamon quindi da colui che ha riutilizzato 30 sarcofagi ed è scritto al sarcofago della moglie è un testo abbastanza lungo che è conservato in cui lui chiede al sarcofago della moglie chiedile come stai come vanno le cose addirittura andando avanti nel testo lui dice si lamenta con il sarcofago perché dice tu le puoi stare ancora vicino tu la puoi ancora abbracciare io non lo posso più fare allora colui che riutilizzava i sarcofagi colui che era stato investito dal grande sacerdote di Amon del compito di fare quello che in egiziano si chiama di ridare sepoltura ai sarcofagi colui che però profana i sarcofagi che li riutilizza poi scrive al sarcofago della moglie in un atto d'amore meraviglioso perché lui sente la nostalgia della moglie e non fa altro che scrivere a colui ovvero il sarcofago che può ancora abbracciare la moglie e quindi lì c'è anche questo aspetto che può sembrare contraddittorio che però ci interessa e che vogliamo analizzare è cambiata forse la ritualità ma soprattutto storicamente perché beh storicamente ne abbiamo subito la risposta nel terzo periodo intermedio alla fine del nuovo regno l'Egitto non è più la grande potenza che era l'Egitto non ha più l'unità economica e politica che aveva viene diviso in due regni non ha più la possibilità di navigare nel Mediterraneo di andare in Libano di reperire in Libano il legno di cui aveva bisogno per costruire i sarcofagi sapete che l'Egitto è ricco di tutto a parte di legno in Egitto non ci sono foreste in Egitto c'è solo il sicomoro ma loro usavano il cedro del Libano per costruire questi sarcofagi quindi dove si trovava il legno che non vi era più nei sarcofagi costruiti precedentemente ecco quindi che le tombe venivano profanate e questo averne adesso la prova averne la prova che il 70% dei sarcofagi gialli sono riutilizzati ci permette di analizzare la materialità e di capirne la sua evoluzione e di porci nuove domande guardate che per noi egittologi è un qualcosa di completamente nuovo dieci anni fa sono stato ad un convegno io mi occupo di sarcofagi sono stato ad un convegno sui sarcofagi del terzo periodo intermedio a Lisbona e mi sembrava di essere di assistere ad una puntata o a una lettura della settimana enigmistica perché nessuno a nessuno interessava la materialità dei sarcofagi i sarcofagi venivano considerati solo come supporto di capitoli del libro dei morti quindi venivano presentati i vari sarcofagi in cui poi avevi lo studioso che ti diceva capitolo 156 capitolo 138 capitolo 125 ci faceva vedere la successione dei capitoli scelti adesso con questo studio ci rendiamo conto come anche la materialità il fatto che gli oggetti sono costruiti di materia che questa materia ha una storia devono entrare a far parte della storia dell'oggetto e concludo facendovi vedere una cosa importante che il museo egizio ha iniziato a dicembre del 2018 e che stiamo portando avanti e che forse è la sfida più importante che il museo egizio ha in un prossimo futuro che è quello di assistere il museo egizio del Cairo per la sua trasformazione sono stato chiamato da sua eccellenza il ministro Khaled Telenani il quale mi ha chiesto un paio di anni fa di dargli un'assistenza per ripensare il museo del Cairo e io subito invece ho pensato che non era giusto che ci fosse il museo egizio da solo ma che ci dovessero essere le più grandi collezioni internazionali doveva essere uno sforzo europeo ecco quindi che il museo egizio è il capofila di un consorzio molto più importante dove c'è il Louvre il British Museum l'Egyptisches Museum und Papierum Sammlung e il Rex Museum von Hauteiden dei Paesi Bassi assieme all'Istituto Centrale per l'Archeologia al Bundesamt für Bauewesen und Raumordung e all'Istituto Francai d'Archeologia Orientale tutti assieme abbiamo un compito in mane improbo quello di scrivere in 36 mesi un masterplan analizzare tutto ciò che deve essere trasformato nel Museo Egizio del Cairo ma per la prima volta i colleghi egiziani ci hanno chiesto non solo di fare un piano espositivo ma di fare un piano che partisse per la ricerca partisse dalla ricerca dalla ricerca sul campo di come legare i reperti alla ricerca di come sviluppare un piano totale di museo che permettesse appunto una sua trasformazione questo è un po' l'ecosistema che deve portare avanti il progetto come siamo arrivati appunto alla firma del progetto e i tre work packages come si chiamano in linguaggio europeo ovvero il redisplay delle gallerie iniziali la consegna del masterplan e il redisplay delle tombe reali di Tanis questo progetto ha un valore per me ancora più importante perché ne ho accennato prima ma nel 1975 è uscito un libro davvero molto forte che si chiama The Rape of Egypt che significa la violenza carnale che l'Egitto ha subito ed è la violenza delle collezioni che noi abbiamo in Europa perché prima o poi questo tema lo dovremmo affrontare il fatto che noi abbiamo grandissimi musei in Europa e in Occidente significa che nel XIX secolo si andava in Egitto Egitto che non era libero perché l'Egitto era governato da Mohammed Ali che era un macedone che era vicere dell'impero ottomano ed era un protettorato britannico quindi il popolo egiziano non ha mai potuto scegliere di quello che poteva accadere delle proprie collezioni e le collezioni hanno lasciato l'Egitto questo ha portato ad un danno grandissimo perché nella narrativa egiziana l'Egitto faronico appartiene all'Occidente a noi occidentali che siamo andati lì l'abbiamo scavato eccetera e quindi è stato anche un qualcosa da combattere sapete che anche gruppi islamici su questo si sono inseriti abbiamo tutti visto le distruzioni che sono venute in Iraq le distruzioni che sono venute in Siria che proprio su questo trovano gioco sul fatto che noi occidentali abbiamo siamo andati ci siamo appropriati quasi della memoria di questo avete mai pensato del fatto che non per niente i nostri sussidiari a scuola cominciano con l'Egitto la Mesopotamia Grecia e Roma intanto è quasi in una scala ascendente si parla dell'inizio della civiltà per poi arrivare alla massima celebrazione che è Roma ma perché iniziamo dall'Egitto e dalla Mesopotamia e non iniziamo dalla Cina perché non studiamo lo sviluppo degli aborigini in Australia semplicemente perché ci siamo appropriati della memoria storica di questi che fanno parte della memoria storica dell'Occidente cosiddetto Occidente e dell'Europa e allora questa riconnessione è importante e ne volevo parlare alla fine perché forse i nuovi metodi di digitalizzazione ci possono permettere di superare i vincoli che inevitabilmente abbiamo i vincoli proprietari i vincoli di legislazione dei vari paesi perché il patrimonio che è egiziano e adesso fa parte però del patrimonio italiano io non lo potrei neanche se volessi restituire all'Egitto però quello che abbiamo il dovere il compito di fare è di fare ricerca è di ricomporre i corredi è di costruire quel museo egizio impossibile che adesso ad esempio avendo messo assieme le cinque maggiori collezioni europee significa cominciare a fare modellazione 3D di tutti i nostri reperti ricostruire che una volta erano unitari pensate che al museo egizio noi abbiamo i resti di una tomba la tomba 32 tomba tebana 32 e ho i resti di una mummietta Petamenofi che è conservata al museo egizio e questa mummietta che proviene da quella tomba è dell'epoca di Traiano di Adriano bene la zia di Petamenofi è al museo di Leiden i nonni di Petamenofi sono al British Museum i genitori di Petamenofi sono al Louvre i cugini e i fratelli sono al Neues Museum di Berlino prossimo anno noi faremo una mossa nel 2021 che si chiamerà fra due anni che si chiamerà il volto di una famiglia e per la prima volta ricongiungeremo tutta questa famiglia però l'importante è ricongiungere anche il dato scientifico mettere assieme le collezioni permettere di conoscere permetterle di conoscere anche in Egitto e concludo dicendo una cosa forse alcuni di voi avranno visto anche che sono stato protagonista di alcuni episodi che esulavano dall'egittologia ma invece sono radicati in qualcosa in cui io credo profondamente il museo egizio ha l'onore e l'onere di costruire questa collezione il museo egizio ha l'onere di costruire un ponte con la sponda sud del Mediterraneo il museo egizio ha l'onere di rendere questa collezione fruibile all'Egitto e agli egiziani che grazie alla cui generosità noi possiamo mantenere questa collezione uno dei problemi enormi che ha l'egittologia è che le lingue scientifiche dell'egittologia erano l'italiano adesso quasi non più e sono ovviamente il francese il tedesco e l'inglese nessuno di noi mai pensa se non in maniera un po' saltuare i nostri corsi di studio non lo prevedono però anche in questo c'è una discussione europea perché le cose cambino di imparare l'arabo pensate che quando invece uno studioso di archeologia classica colleghi danesi olandesi inglesi si occupano in maniera sistematico dello studio per esempio dell'archeologia romana cominciano a pubblicare in italiano partecipano a congressi e parlano in italiano e fanno a volte anche pubblicazioni di larga divulgazione in italiano come le fanno in greco moderno l'Egitto invece vive ancora quasi questa fase coloniale è un'attività nostra europea noi ne parliamo nei nostri convegni e nei nostri convegni molto spesso i colleghi egiziani non vengono invitati o solo alcuni di loro e comunque mai nessuno pensa che si debba parlare in arabo e si debba comunicare con loro cosa che peraltro sta cominciando a cambiare perché il ministero egiziano secondo me ha una grande ragione chiede adesso che le richieste dei permessi le presentazioni dei progetti eccetera vengano fatte in arabo da questo nasce l'idea del museo egizio di riconnettersi di riconnettersi anche a una comunità linguistica di pensare degli 89.000 egiziani che vivono nell'Interland di Torino e che non sanno che vi è un museo egizio molto spesso sono egiziani di prima immigrazione che non sanno che quel museo appartiene a loro da qui nascono le nostre politiche di social engagement e di inclusione sociale che portiamo avanti con grande attenzione e sulle quali crediamo profondamente e crediamo profondamente per quello che vi dicevo all'inizio ovvero che il nostro compito sia quello di prenderci cura dell'oggetto di studiarlo e di renderle partecipe la società anche in un'ottica di preservazione della cultura materiale la cultura materiale potrà essere preservata solo se la comunità e la società lo assentirà come un qualcosa di proprio e il mio compito è quello di farlo conoscere a tutta la società e di far capire a tutti partendo da voi che il museo egizio è la casa di tutti e che tutti sono benvenuti al museo grazie mi auguro che ci siano domande commenti qualsiasi cosa io volevo chiedere è evidente che dietro ad archeologia invisibile ci sia un intento molto forte di prendersi cura di un'esposizione temporanea è ovviamente evidente che ci sia stata della grande ricerca dei grandi ricercatori che siano stati in grado di collaborare allora la domanda è nel caso invece di musei piccoli chiamiamoli così che non abbiano a disposizione questi strumenti di ricerca questa equip di ricercatori ecco per loro quanto potrebbe essere strategico utilizzare queste nuove tecnologie per dare voce alle loro collezioni e allo stesso tempo quanto utilizzare la tecnologia in modo non consapevole possa danneggiare i musei la ringrazio per la domanda e soprattutto per la duplicità della domanda se lei viene al museo egizio vedrà che la nostra esposizione è estremamente tradizionale e solo in questa mostra e dopo averci affrontato quattro anni di ricerca abbiamo voluto usare le nuove tecnologie digitali perché? e rispondo alla seconda parte della sua domanda io non credo nell'edutatement non credo che si avvicini il pubblico semplicemente facendo un giochetto io credo moltissimo invece nel rapporto che si deve costruire fra la cultura materiale e il pubblico e credo che se le nuove tecnologie sono usate in maniera intelligente questo ci offra un'opportunità di conoscenza e di interconnessione che finora non abbiamo mai avuto però deve essere fatto con la ricerca alla base se no è un'altra cosa se no non ci avvicina la collezione secondo me anzi ci allontana la prima parte della sua domanda invece è molto più complessa ed è richiede una risposta un po' articolata innanzitutto io penso e so che il precedente ministro Franceschini con l'allora ministro Giannini aveva cercato di fare un protocollo di intesa fra il MIBAC e il MIUR perché uno dei problemi che viviamo in Italia è che il ministero dei beni delle attività culturali è separato dal ministero dell'università e della ricerca scientifica perché una delle soluzioni al problema che pone lei è innanzitutto riconnettere i luoghi della cultura con l'università è assurdo che un paese con il patrimonio culturale come il nostro non dia l'opportunità poi ai giovani di formarsi nelle collezioni ma di formarsi non facendo le canoniche 150 ore che vengono proposte di tirocinio perché pensate che la stessa trasformazione l'ha fatta anche la facoltà di medicina in Italia vent'anni fa ci si laureava in medicina senza fare esperienza clinica adesso tutto ciò non è possibile il quinto anno di medicina si fa totalmente nei vari reparti perché si possa imparare poi anche dal punto di vista clinico quello che si è studiato nei libri bene i beni culturali non dovrebbero essere diversi le nostre soprintendenze i nostri musei sono piene di persone di funzionari che ogni giorno lavorano sul patrimonio culturale che avrebbero delle competenze da trasmettere e il professor Giuliano Volpe aveva già parlato dei cosiddetti policlinici dei beni culturali di mettere i beni culturali al centro come un luogo in cui diversi saperi dai saperi archeometrici ai saperi più umanistici si possessero incontrare per sviluppare i beni culturali tutti noi stiamo lottando per questo io come museo egizio ho una serie di richieste non avete idea di quante soprattutto da tantissimi colleghi egiziani che mi chiedono di venire a fare il dottorato ma non in Italia di venire a fare il dottorato al museo egizio con le possibilità che il museo egizio ha con gli avanzi di bilancio che abbiamo avuto quest'anno finanziamo quattro borse di dottorato che vi devo dire è una cosa che mi rende estremamente fiero come riusciamo a farlo? con accordi con università straniere perché paradossalmente per me è più facile avere un accordo con Leipzig anziché con Leiden anziché con Liege e quindi ho degli studenti che vengono da noi scrivono un progetto di ricerca vengono ammessi al corso dottorale all'estero e noi ne paghiamo la borsa per quattro anni di modo che poi alla fine del loro percorso noi possiamo avere un volume quindi una parte della collezione che venga pubblicata allora dobbiamo cercare di portare avanti innanzitutto questa fase cioè cercare di far capire ai ministeri che bisogna trovare un accordo bisogna portare le università all'interno dei musei dei luoghi della cultura e c'è un esempio non dobbiamo inventarci niente se andate sul sito del Louvre vedete che il Louvre ha una cosa bellissima che si chiama Ecole du Louvre e ce l'ha dal 1880 quindi la Sorbona che va all'interno del Louvre e che per quattro anni chi decide chi si iscrive a storia dell'arte chi si iscrive all'archeologia classica chi si iscrive ad egittologia può decidere di fare un percorso museale e quindi perché vuole diventare curatore e quindi quando studierà ieratico quando studierà demotico non lo farà sui libri all'università ma lo farà aprendo le cassettiere leggendo i papiri dal vivo questo però si connetta a un altro punto ed era quello che dicevo all'inizio dobbiamo smettere di considerare i musei come il luogo in cui si può avere un guadagno di considerare che i musei abbiano una buona performance quando abbiamo tanti turisti e tanti incassi ovviamente tutti sappiamo che ci deve essere un modello di gestione che stia in piedi ma dobbiamo riconoscere ai musei il ruolo della ricerca perché pensate nelle università si sostengono con il cosiddetto FFO fondo di finanziamento ordinario significa che viene riconosciuto troppo poco e in maniera davvero scandalosa in Italia perché purtroppo le nostre università sono finanziate troppo poco comunque si riconosce che ovviamente l'università fa didattica ma fa soprattutto ricerca e questa ricerca in qualche modo deve essere finanziata quindi il governo dà dei soldi che permette il pagamento dello stipendio dei professori che lavorano ripeto troppo poco ci sono stati enormi tagli e come sappiamo tutti tanti tagli di organico ma almeno un minimo viene garantito nei musei questo non funziona per noi i costi del personale vengono considerati costi a noi viene richiesto di essere inattivo dobbiamo avere dei bilanci che vengono chiusi o a parità o inattivo ecco finché non riusciamo a riconoscere che noi abbiamo diritto ad avere delle voci di spesa è importante però vi dico anche che siccome bisogna cominciare a operare dal basso perché ci possono essere due approcci bottom up bottom up of top down beh cominciamo a bottom up cominciamo a fare noi quello che possiamo fare a me viene sempre in mente che nel 2012 in occasione dell'anniversario della morte di Falcone e di Borsellino il presidente emerito della Repubblica Italiana disse ad un pubblico di giovani come voi il paese appartiene a voi e se non vi permettono di entrare dalla porta entrateci dalla finestra bene sui beni culturali adesso è verissimo dopo la riforma Franceschini i musei hanno autonomia che significa che hanno anche autonomia di bilancio che significa che se aumentano i loro introiti questi introiti poi possono essere riempiegati in attività di museo e quindi io la sfida che lancio a tutti è una volta al mese facciamo un'attività culturale che può essere andare in un museo pagandone il biglietto o comprando un libro e leggendolo e questo permette di fare di avere un ritorno che poi può essere impiegato e non lo dico in maniera teorica perché il museo egizio ha esperito esattamente questo io quando sono arrivato al museo egizio ho trovato un museo che aveva un bilancio di 3 milioni e 8 oggi il museo ha un bilancio di 12 milioni e mezzo non non vengono dallo Stato perché io sono un museo che non riceve finanziamenti 12 milioni e mezzo sono soldi che guadagna il museo egizio come? grazie innanzitutto all'affetto che ci dà il pubblico abbiamo come avete visto il numero di visitatori che viene e che paga un biglietto e che ci ha portato quindi ad avere quasi 10 milioni all'anno di introiti da bigliettazione il nostro bookshop che ci permette di avere 2 milioni e 6 e le mosse itineranti quindi io posso dire sono arrivato al museo egizio avevo 13 dipendenti adesso ne ho 51 età media al museo egizio è 32 anni quindi ho assunto una serie di giovani addirittura una serie di giovani abbiamo fatto anche un contratto di tirocinio anche giovani egittologi sperimentando una formula nuova cioè giovani che si erano laureati in maniera brillante magari su una tesi su un nostro argomento che avevano fatto un internship da noi a noi abbiamo dato loro poi un tirocinio di 3 anni e dopo il tirocinio loro in questi 3 anni in cui hanno lavorato al museo egizio e hanno sviluppato delle professionalità hanno individuato un settore di ricerca che loro interessava e poi hanno continuato con il dottorato che abbiamo continuato noi a sponsorizzare allora noi abbiamo la possibilità perché siamo un museo siamo il sesto museo più visitato d'Italia e quindi non tutti possono fare quello che fa il museo egizio però un legame con l'università perché anch'io comunque questo l'ho voluto e l'ho cercato fortemente ho fatto accordi con 89 università e adesso in una formula anche questa completamente nuova l'università di Roma la Sapienza l'anno prossimo offrirà un secondo esame di egittologia che verrà fatto completamente da noi in museo in una forma diciamo full immersion gli studenti verranno dieci giorni a Torino e avranno lezioni da me e dai miei curatori sulla collezione quindi io penso che quando non si ha la possibilità economica si può comunque cercare di aprire le collezioni e poi voi e so che siete molto impegnati a pensare nuove modalità di fruizione a pensare nuove start up beh pensate la potenzialità economica che c'è se si trova un modo per connettere il 74% degli italiani che non entra mai in un museo con un museo pensate questo noi adesso viviamo col 26% di italiani che va in un museo se riuscissimo a rovesciare questa percentuale c'è una potenzialità economica immensa e voi siete la prima sfida io dico che il museo funzionerà quando lo vedrò pieno di persone della vostra età che scientemente vengono non perché accompagnati da una scuola che scientemente vengono non perché il professore dice che per avere crediti universitari bisogna andare è un percorso lungo ma in Italia è il paese europeo assieme alla Grecia è paradossale dove non vi è partecipazione culturale dai 20 ai 50 anni si torna in museo quando si hanno i figli adolescenti e li si accompagna da genitori ma non si ritiene che un museo sia un luogo di partecipazione culturale quindi forse potrei anche rovesciare la domanda chiedendo a voi cosa vi aspettate che noi facciamo per riuscire ad attirare voi perché se l'Italia passasse dal 26% di fruizione al 74% di fruizione beh le casse del ministero sarebbero ampiamente diverse e ci sarebbe una possibilità di impiego di nuovi giovani eccetera quindi io molto spesso ho dei giovani che mi vengono a parlare dicendomi ma cosa posso fare per venire a lavorare al museo egizio e io dico sì la domanda è posta in una maniera intelligente quindi lei pensi cosa è utile per me se lei viene qui con una proposta che per me è utile non le dirò mai di no soprattutto se una proposta che è utile e in qualche modo si possa anche sostenere economicamente e ci sono moltissime idee di coinvolgimento dei pubblici per esempio un gruppo di Torino bravissimo mi venne a parlare un paio di mesi fa un paio di anni fa dicendo ci piacerebbe sul modello dei grandi musei europei cercare di cominciare ad organizzare degli aperitivi al museo egizio ho detto beh certo ma nelle sale scordatevelo perché ovviamente non si può entrare e loro mi hanno detto no ma se lo facciamo d'estate nella corte interna che bellissimo abbiamo iniziato e anche lì sono dei processi che poi pagano a lungo tempo all'inizio venivano 200 giovani l'ultimo aperitivo quindi tre anni fa l'ultimo aperitivo l'abbiamo fatto l'altro giorno 2500 giovani in una serata in cortile in cortile fanno un aperitivo come si farebbe sempre poi possono avere anche le cuffie se vogliono ascoltare della musica quindi c'è un DJ però insomma è la modalità clap silenzio per cui non si sente la musica poi dai giovani è arrivata a un certo punto la richiesta ma ci piacerebbe anche visitare il museo e quindi abbiamo detto beh certo però il museo si entra allora senza musica e senza bicchiere e senza ovviamente mangiare e allora abbiamo cominciato noi abbiamo organizzato delle speed lectures quindi si può entrare in un museo in 20 minuti e la cosa bella è che tutti dicono ma è già finito possiamo ritornare di nuovo e quindi ecco questo per esempio è stata una modalità di partecipazione una modalità a cui io non avevo pensato che è venuta di nuovo bottom up di giovani di Torino che pensavano di poter attirare i giovani e valorizzare ed è una modalità che a loro li ha ripagati perché adesso io con loro ho un contratto e loro mi organizzano dieci aperitivi dell'anno più di questo per ora non possiamo fare non possiamo neanche permetterci economicamente però un bel modo per avvicinare dei pubblici quindi in realtà è proprio quella parte di pubblico che manca che dobbiamo cercare di coinvolgere e di fare entrare nei musei la domanda è un po' materiale per una cosa che mi interessa effettivamente qual è la politica del museo egizio sul merchandising la domanda è proprio a doc perché in questi giorni si sta svolgendo la commissione per il nostro bookshop ed editoria allora noi abbiamo nella fase che è finita adesso perché noi ovviamente siamo una fondazione privata allora per dirvi quello che siamo è un po' difficile perché ho chiesto al ministero più volte con degli interpelli scritti sono pubblico o sono privato e il ministero mi ha risposto dopo quattro anni siete una fondazione privata anche se di natura insincera e questi sono i momenti in cui io adoro la burocrazia italiana perché mi chiedo sempre come farei a tradurlo in inglese che sono di natura insincera e perché sono di natura insincera perché pur essendo privato pur non ottenendo fondi pubblici gli enti pubblici che siedono nel mio consiglio di amministrazione sono preponderanti rispetto al privato allora io significa che in maniera cautelativa per l'acquisizione di beni e servizi mi devo comportare come se fosse un ente pubblico quindi come se fosse un museo completamente pubblico quindi dobbiamo fare gare concessione eccetera il bookshop quindi viene affidato con una concessione pubblica adesso è finito un periodo e c'è la gara in corso in questo momento abbiamo avuto un bravissimo editore che è stato Franco Cosimo Panini e quali sono state le linee del merchandise una volta che è stato riaperto il museo beh di riconnetterlo molto più innanzitutto alla collezione è partita e a quello che noi stavamo facendo è partita una linea explorer che è la linea che ci legava agli archivi e a tutta la parte degli scavi facendo tutta una serie di agendine matitine zainetti eccetera che erano legate quindi allo scavo la scoperta archeologica che è andata benissimo facciamo riproduzioni che possono essere dagli magnet per mettere sul frigo a varie cose di oggetti della nostra collezione con l'MIT di Boston adesso stiamo sperimentando questa nuova tecnologia per cui abbiamo queste cartoline con un QR code che e poi scaricandosi una app dell'MIT sul telefono ti permettono di vedere l'oggetto tridimensionale e di vederlo anche in tutte le sue fasi un po' come abbiamo visto con il sarcofago di Buteamon quindi vederne poi la radiografia vederne la foto infrarossa ultravioletto ultravioletto falso colore eccetera viviamo tantissimo noi perché ho detto 2 milioni e 6 di bookshop sugli acquisti che fanno soprattutto i bambini quindi i bambini che si comprano la gommetta l'astuccetto fatto a sarcofago e la matitina abbiamo anche individuato tutta una fascia di prodotti che possa costare uno o due euro perché per dar la possibilità cioè il bambino che viene vuole portarsi a casa un ricordo del museo egizio deve avere la possibilità di sedere anche su una fascia economica che gli permetta di fare questo e stiamo adesso valutando di fare quello che fa il British Museum ovvero dei modelli e delle riproduzioni di altissimo livello fatte quindi con studio di modellazione 3D con stampa 3D non so se sapete il British Museum lo fanno a numero chiusissimo si arriva anche a pagarle 20.000 euro si parte da 2-300 euro a 20.000 euro e sto valutando se c'è un mercato per questo per cercare di introdurlo anche in Italia non so se ho risposto a quello che voleva sapere innanzitutto grazie per quello che rappresenta e come anche come esempio di imprenditorialità diciamo atipico perché siamo sempre abituati a pensare agli start-up per le persone al grande business mentre anche solo dal punto di vista dei numeri dei fatturati abbiamo visto come si può andare incontro ai bisogni delle persone in maniera diversa e io mi occupo della formazione dei ragazzi del giardino delle imprese che è una delle due scuole che sono qui e la challenge dei ragazzi di quest'anno è quella di capire come si può migliorare l'offerta culturale dal punto di vista dell'inclusività e dell'accessibilità quindi anche nel contesto delle disabilità e avrei piacere di sapere come state come se state affrontando questa tematica e con che difficoltà Allora la ringrazio e sono contento di poter rispondere perché se me l'avessi fatta l'anno scorso questa domanda mi avrebbe messo più in crisi di quest'anno quest'anno nel bilancio 2019 per la prima volta io ho voluto una voce di bilancio che fosse la voce accessibilità e non abbiamo messo tanto per ora però è un inizio ed è importante che ci sia che ci sia anche nel nostro bilancio integrato e che si cominci a dare ragione di questo quest'anno abbiamo messo 30.000 euro in accessibilità abbiamo cominciato a lavorare con tutto il tessuto associativo che è il terzo settore che lavora a Torino che è quello che ci permette di fare molti passi avanti e di capire come intervenire all'interno della società e ci stiamo orientando con una collaborazione anche con il museo Omero uno sull'implementazione di quello che possiamo fare sulle disabilità fisiche e per esempio la cicità è una di queste poi forse sapete che avevamo cominciato un percorso con Google con Google Glass per fare la visita guidata in lingua di segni per le disabilità uditive fra l'altro lì abbiamo visto quanto è complesso tutto ciò il progetto è stato sposato da Google eccetera molto bello non è stato apprezzato da tutte la comunità dei sordi perché come sappiamo c'è chi la lingua di segni non l'accetta per cui è stato anche un bel inserirsi in un contesto complesso stiamo lavorando con Casa Ozz che penso voi conosciate è una realtà bellissima che esiste a Torino che permette di dare ospitalità alle famiglie che hanno giovani pazienti in genere sono figli fratelli ricoverati all'ospedale Regina Margherita soprattutto malati oncologici perché c'è il dramma ovviamente del bambino malato ma c'è il dramma della famiglia che proviene magari dalla Calabria dalla Puglia da posti lontani e deve magari stare mesi e mesi a Torino che oltre il dramma economico c'è il dramma magari anche di doversi trasferire con la famiglia e dover portare anche gli altri fratellini che non possono vivere in una camera d'albergo ma devono poter avere una normalità Casa Oz da molti anni ha sviluppato questo quindi ha una serie di case che sono davvero degli appartamenti in cui i bambini poi possono essere in un ambiente completamente a loro familiare che permette poi anche l'inserimento dei bambini una volta che non sono più ospedalizzati con loro facciamo delle cose legate ovviamente agli ospedali il Museo Egizio ha un accordo con il Regina Margherita dove noi facciamo già da 4 anni non so forse qualcuno di voi l'avrà letto io ho preso servizio il 28 aprile 2014 e il giorno prima che era una domenica avevo rilasciato un'intervista per il domenicale del sole 24 ore e avevo detto che uno dei miei più grandi sogni era di portare il museo fuori dal museo la prima cosa a cui pensavo era l'ospedale Regina Margherita abbiamo cominciato ad andare perché quale disabilità più grande c'è di chi non può fisicamente venire nel museo e quindi non si parla di barriere architettoniche ma si parla di bambini che stanno facendo la chemioterapia che hanno un sistema immunitario talmente debilitato che non possono uscire dall'ospedale ma il museo appartiene anche a loro abbiamo portato il museo da loro letteralmente quindi io in primis poi i miei curatori a lunedì si va a Regina Margherita a fare delle lezioni vi assicuro che è molto complesso perché con i bambini che subiscono la chemioterapia non sappiamo mai se potremmo fare lezioni o meno perché dipende da come stanno e però c'era sempre una richiesta che era come facciamo volevano vedere gli oggetti quindi noi andavamo lì con il nostro iPad facevamo fare le riproduzioni 3D di qualcosa ma volevano gli oggetti e non sapevamo come fare un trasporto d'arte ogni volta era difficile e mai avrei pensato che da un altro luogo di Torino mi sarebbe avvenuta la risposta il luogo di Torino era la casa circondariale il direttore del carcere mi ha chiamato mi ha chiesto di andare a fare una lezione in carcere e fra l'altro apro e chiudo una parentesi dove davvero mi è sembrato un po' di conoscere la società del futuro nonostante tutto quello che ci viene detto io in carcere ho parlato di fronte a una platea di 200 persone italiani e non e la cosa che ho visto siccome mi avevano invitato un venerdì a parlare ad un certo punto mi hanno detto beh entro mezzogiorno non deve finire perché poi dobbiamo liberare la sala dobbiamo adibire alla preghiera dove c'erano italiani che aiutavano i musulmani a stendere i tappeti a pregare e la cosa incredibile è che c'erano i nuovi italiani o gli stranieri che non conoscevano il museo egizio quelli che lo conoscevano mi hanno chiesto ad un certo punto ma possiamo dedicarci al museo egizio per gli esami di maturità nell'istituto d'arte e liceo artistico che sono contenuti all'interno del carcere l'hanno fatto si sono appassionati hanno cominciato a fare copie dei nostri reperti soprattutto della tomba di K talmente perfetti che non so se sto istruendo dei falsari non lo so ma sono perfetti e dopodiché allora abbiamo utilizzato questi oggetti per portarli in ospedale i bambini dell'ospedale Regina Margherita hanno fatto una mostra che si chiama Liberi di imparare quindi sulle copie del museo egizio fatti dai detenuti le didascalie vengono fatte dai bambini adesso fra l'altro questa mostra è stata ospitata anche al museo egizio e sta girando per tutte le biblioteche di Torino quindi questa è stata una bella collaborazione perché ovviamente io ho sempre detto il museo appartiene alla città tutta dal carcere agli ospedali e quindi anche a chi in museo fisicamente non ci può venire il museo deve andare fuori dal museo poi con Casa OZ stiamo cominciando a parlare a tutte le disabilità psichiche abbiamo cominciato adesso un percorso da sviluppare per i bambini che soffrono di autismo per vedere perché fra l'altro disabilità psichiche che colpiscono una percentuale importante del nostro paese e significa anche che non ci sono solo le barriere architettoniche o le barriere fisiche ma bisogna trovare una modalità di modulare di scrivere dei testi che possono essere poi compresi a tutti e quindi quel bilancio per le disabilità che abbiamo messo quest'anno l'abbiamo messo soprattutto per cercare di scrivere i testi che ci permettano di accompagnare i bambini che soffrono di autismo e questo l'abbiamo fatto con la collaborazione di Casa OZ e in un dialogo costante con gli insegnanti che ci hanno detto come questo sia un loro bisogno enorme perché quando un insegnante viene magari da solo senza l'insegnante di sostegno a una classe di 30 ragazzi all'interno della classe di 30 ragazzi magari c'è uno o due ragazzi con disabilità fisica e psichica importanti avere una modalità per cui questi ragazzi possano essere accompagnati in museo e possano fruire del museo in una maniera che non li renda nervosi e permetta loro di recepire il messaggio fondamentale quindi questo è un filone sul quale abbiamo iniziato ripeto da quest'anno abbiamo messo a bilancio questa cifra che però penso sia molto importante una domanda collegandomi alla dichiarazione che lei fece al sole 24 ore prima di il collega della sera che diceva prima prima di prendere il ruolo all'interno del museo che mi sembrava una sorta di dichiarazione di intenti di quello che si fa poi quando arriva un nuovo direttore quanto è difficile andare a cambiare un'istituzione come un museo all'interno del quale lei si è inserito portando i concetti nuovi e di fatto cambiando un po' sia il respiro sia l'operatività di quello che si fa all'interno del museo stesso grazie devo dire che io ho una fortuna enorme e la fortuna enorme è la mia squadra ho dei collaboratori davvero magnifici e ne avevo 13 quando sono arrivato adesso ho detto ne ho 51 il che significa capisci già nei numeri che la squadra me la sono anche molto costruita non ho trovato però resistenze nemmeno in coloro che c'erano prima però devo fare devo specificare qualcosa il museo egizio essendo fondazione può bandire dei posti bandire dei concorsi assumere il proprio personale e licenziare anche il proprio personale la cosa più difficile che deve fare un direttore purtroppo mi è capitato è di dire a volte a un collaboratore le nostre stade finiscono qui non è bello perché tutti noi vorremmo sempre essere giudicati bravi buoni da tutti a volte invece bisogna dire mi dispiace ma le finalità istituzionali non sono quelle che stai perseguendo tu in questo momento ma a volte anche per esempio avevo un bravissimo ricercatore che adesso sta continuando una carriera brillante all'università e con il quale continuiamo a collaborare ma che non era tagliato per fare il curatore lui è tagliato per stare in biblioteca dalla mattina alla sera a studiare a pubblicare i libri quando gli chiedevo per favore c'è la televisione francese puoi rilasciare un'intervista lui dice no io non posso perdere tempo perché devo pubblicare il papiro e allora lì cominciavano a esserci delle frizioni e adesso è lui che mi ringrazia perché in realtà ha trovato la sua strada io ho la fortuna rispetto ai musei statali di poter assumere e scegliere il mio personale quando mi è servito un curatore che fosse esperto della cultura materiale scritta dell'antico Egitto e nella fattispecie di Ieratico ho chiamato il professore ordinario di Oxford il professore ordinario di Copenhagen il professore ordinario di Leiden ho detto potete venire a fare una commissione da me dovete scegliere il miglior curatore che c'è ed è stata scelta Susanna Toff che veniva da Heidelberg e che io non conoscevo e che così ha potuto raggiungere la nostra squadra quindi io lavoro in una istituzione che mi dà la possibilità di costruire una squadra se lavorassi per un'istituzione statale come sapete è molto più complesso perché ci sono i concorsi nazionali che si fanno a Roma e soprattutto nei musei si viene ancora assunti secondo tre categorie che sono archeologi storici dell'arte e architetti e questo non può coprire tutti i bisogni che un museo ha quindi io spero che anche l'attuale ministero continui a pensare e continui a dare la vera autonomia ai musei perché quando guardiamo i musei stranieri che funzionano funzionano innanzitutto perché hanno un'autonomia gestionale pensate che il Metropolitan quando gli serve una figura debba aspettare un concorso che viene fatto a Washington con persone che poi pensate all'assurdo perché io dovrei avere in museo delle persone che devono lavorare con me quotidianamente perché dovrebbe essere scelta da una commissione altra a Roma senza sapere le cose specifiche di cui abbiamo bisogno io non so perché in questo paese ci sia il terrore di lasciare la scelta e l'autonomia al dirigente quando io ho fatto il concorso per entrare al museo egizio la domanda più difficile e l'unica domanda che mi ha davvero messo in crisi me l'ha fatta il mio attuale vice direttore che allora non era ma l'unico membro interno della commissione perché si può parlare dei massimi sistemi ma poi chi lavora nell'istituzione ti dice sì sì ma guarda che qui le cose vanno così tu per questo problema che soluzione hai e io vengo da ho lavorato 17 anni in Olanda in cui c'è davvero l'autonomia museale in cui al dirigente perché noi ci confondiamo sempre fra la tematica autonomia e controllo che sono due cose diverse avere un'autonomia non significa che il ministero lo stato rinuncia al controllo ma lo fa su un altro livello in Olanda noi ogni quattro anni avevamo il ministero i direttori generali del ministero che venivano in museo e ci dicevano quale doveva essere il nostro piano performance quindi ti dicevano addirittura quanti contatti dovevi avere nei social quanti oggetti dovevi restaurare quante monografie dovevi pubblicare quanti articoli per review quanti progetti di ricerca dovevi attirare a largo spettro dopodiché il ministero ti lasciava completamente libero ti diceva bene abbiamo approvato questo piano per attuare questo piano il contributo ministeriale è tot sei libero ma sei libero significava lo vuoi far da solo fallo da solo lo vuoi fare tu e tua moglie lo fai tu e tua moglie tu e tua moglie la tua amante fatti i tuoi io quattro anni dopo però vengo a controllare non vengo a controllare chi è assunto chi non è assunto vengo a controllare cosa hai fatto e lo vengo a fare in maniera intelligente perché il controllo significa anche investire dei soldi quindi chiamando per esempio l'anno in cui fui valutato io venne il direttore del Metropolitan assieme a altri quattro direttori internazionali e a un funzionario del ministero stettero da noi una settimana controllarono tutto uno dei controlli che fecero a me ad esempio per vedere se il sistema informatico e di digitalizzazione dei dati funzionava mi diedero una lista di dieci oggetti di piccole dimensioni e mi dissero adesso lei ha venti minuti per portarci qui tutti questi oggetti quindi significava che io avevo dei magazzini accessibili significava che il mio sistema informatizzazione era corretto significava che per esempio se un oggetto rimostra io dovevo già avere sul database l'indicazione che questo rimostra da un'altra parte e quindi ti verificavano sul concreto alla fine del controllo lo stato olandese ti diceva bene stai funzionando benissimo quindi ti do il 50% in più di finanziamento oppure no hai funzionato appena sufficiente quindi ti riduco i fondi oppure hai funzionato male licenzio il dirigente e licenzio tutto il personale e chiudo il museo chiudere il museo non significa una cosa così negativa come noi possiamo pensare perché chiudere il museo significa nomino un direttore ad interim con un curatore il quale faccia un piano di sviluppo che possa permettere la riapertura di un museo ecco io non capisco perché in Italia si abbia paura di dare la vera autonomia a chi lavora sul campo per scegliere prendendosi le responsabilità della propria scelta che significa anche pagando per le proprie scelte fatte in maniera non oculata cioè noi pensiamo non so se io resto sempre basito quando sento che pare che i problemi della pubblica amministrazione siano adesso avere le impronte digitali e sapere chi va o chi non va in ufficio beh allora vi devo dire che io al museo egizio ho annullato il badge a me non me ne frega niente se uno arriva alle 8 alle 8 un quarto alle 8 e mezzo a volte magari potrebbe entrare anche alle 10 ma io quello che faccio con il mio personale è un piano performance io mi siedo con tutti con tutto il mio personale ho un colloquio di un'ora all'inizio e alla fine dell'anno all'inizio dell'anno diciamo qual è il piano di sviluppo alla fine dell'anno valutiamo come è andato l'anno sulla base del quale ci possono essere degli scatti di stipendio o meno delle sanzioni o meno ma sta lavorando così tanto quando sono arrivato avevo la percentuale di mutuo del 12% adesso lo 0,8 sta lavorando così tanto che non mi serve controllare quando uno smette perché sono io la sera molto spesso a passare per gli uffici e dire adesso andate a casa è venerdì sono le 9 di sera adesso si va a casa questo può aspettare a lunedì perché avere una persona che semplicemente entra in ufficio e timbra il cartellino alle 8 ma cosa vuol dire se poi questa persona guarda l'infinito fuori dalla finestra o pensa di essere ispirato dallo scherma del computer e non fa nulla che cosa mi interessa la presenza fisica cioè mi sembra che in questo paese stiamo facendo molto un controllo formale e non un controllo sostanziale ma il controllo sostanziale in realtà va fatto anche creando una squadra e creando una leadership condividendo con la propria squadra noi facciamo in continuazioni riunione plenare in museo in cui esponiamo io il mio management team esponiamo gli oggetti quello che vorremmo sviluppare i piani che abbiamo di sviluppo e sentiamo ed è difficoltoso perché è molto più facile dire decido io sono il direttore sentiamo qual è il feedback a volte ci sono anche grandi resistenze su certe cose che però mi inducono a tornare indietro sui miei passi a volte piacerebbe anche a me dire no si fa così perché decido io ma invece se si riesce a creare la squadra ecco che il museo cammina quindi per rispondere alla sua domanda devo dire che la cosa di cui sono più fiero che ne ho detto oggi quindi la ringrazio per la sua domanda è la squadra il museo Egizio sta funzionando non perché c'è il direttore ma perché ci sono delle persone che lavorano che sono bravissime e che credono negli obiettivi e con i quali condividiamo assieme gli obiettivi da raggiungere ci dobbiamo fermare come tutti avete capito Christian Greco ha la capacità di portarci in altri mondi uno naturalmente è il mondo che studia è il mondo egiziano che conosce e comunica in modo straordinario l'altro è l'altro mondo dell'organizzazione che sta guidando di cui ci racconta cose che non si vedono nei mondi che siamo abituati a frequentare però ci dice che in realtà i cambiamenti in questi mondi nelle organizzazioni nei musei nella fruizione nell'impatto sulla società sono possibili quindi l'altro mondo che ci racconta quando ci racconta queste ultime cose è un'indicazione di possibilità il passaggio da un mondo che ci piace meno ad altri mondi passa attraverso una parola che lui ha usato in qualche passaggio che è appunto l'imprenditorialità cioè una capacità straordinaria di assunzione del rischio nei vincoli esistenti forzando i vincoli che invece sono immaginari i vincoli che rendono tutto il resto del mondo fermo bloccato incapace lamentoso piuttosto che capace di cambiamento in questa lezione credo ci sono moltissimi spunti quelli impareggiabili delle storie che racconta sull'Egitto ma anche quelli della sua esperienza esperienza professionale quindi credo che dobbiamo ringraziarlo questa è la seconda volta che viene qui al corso di Entrepreneurship in Humanities speriamo sempre di averlo sapendo di portarlo via alle cose straordinarie che avete visto ma anche ringraziandolo perché ci deve essere una qualche intuizione che lui ha che questa idea di lavorare sull'Entepreneurhip in Humanities con voi e poi con gli ospiti che oggi sono venuti deve avere qualcosa di interessante se no non verrebbe da noi grazie bene ci vediamo col gruppo della Summer School fra un'ora guardo sì un'ora quindi circa due e un quarto due e ventiquattro grazie 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 grazie